perché sto creando dei strumenti che servono per rilevare la risonanza di Schumann e rilevare determinate frequenze del cervello che interagiscono con i campi elettromagnetici perché purtroppo il corpo umano è come un'antenna e tutto ciò che irradia il corpo viene assorbito dal corpo stesso e influisce con i centi nervosi del cervello e con i centi nervosi di tutto il corpo allora avevamo riscontrato che all'interno di una gabbia di Faraday queste frequenze e questi disturbi diminuivano, ma diminuivano dell'80% le persone dormivano all'interno di una camera schermata e abbiamo notato che miglioravano nel passare del tempo infatti avevo dato dei consigli a queste persone se venite attaccati dentro casa con i campi elettromagnetici così forti fate una cosa o staccate l'interruttore generale della corrente oppure andate a dormire in mezzo a un prato perlomeno si ristabiliscono le frequenze fisiologiche del presunto attacco o l'arma di energia diretta o tutte le patologie che vengono immesse attraverso una sorta di narcolessia indotta durante la notte perché ovviamente la persona se non dorme per giorni interi crolla psicologicamente e fisicamente allora di giorno diventa un sonnambulo, un narcoletico, uno zombie perché casca in continuazione in una sorta di stato ipnotico perché non riesce a dormire più durante la notte e durante il giorno sentono delle frequenze o hanno dei disturbi relativi a una sorta di narcolessia indotta che gli crea allucinazioni audiovisive e purtroppo questa anomalia l'abbiamo riscontrata su moltissime persone che venivano attaccate con questi sistemi cioè sulla mia radio web io ho messo varie testimonianze di persone che praticamente le ritenevo più attendibili e queste persone dicono tutte quante la stessa identica cosa che vengono attaccati durante la notte che sentono le voci, che hanno dei gravissimi disturbi che gli creano dei blocchi della memoria che gli hanno creato delle gravissime amnesie che hanno perso i telefoni, i cellulari, i soldi sono addirittura incappati in anomali cortocircuiti all'interno di casa sembrava come se venivano attaccati con le stesse tecnologie che hanno utilizzato per caronia centraline bruciate, televisori bruciati, computer bruciati hard disk che gli prendevano a fuoco e si surriscaldavano e da lì abbiamo capito che era un'arma d'energia diretta che operava attraverso delle frequenze in campo elettromagnetico e che il campo elettromagnetico ricrea attraverso una focalizzazione di puntamento con arma satellitare che opera con un'onda convogliata su un punto ben preciso e surriscaldava praticamente bruciava addirittura le piante, bruciavano la frutta bruciavano i vestiti, bruciavano le centralite della macchina andavano in cortocircuito gli allarmi le telecamere si spengevano quando facevamo determinate riprese mentre la persona veniva messa sotto attacco addirittura a me mi sono scomparse delle registrazioni perché io attraverso l'elettroncefalografo volevo riprendere la persona mentre veniva attaccata durante la notte e far vedere l'analisi celebrale e far vedere con la telecamera il momento dell'attacco che cosa succedeva alla persona con alcune persone abbiamo avuto la testimonianza totale e abbiamo riscontrato che venivano attaccate veramente con queste tecnologie perché ho fatto le analisi anche io attraverso l'elettroncefalografo e ho visto i stati di disturbo attraverso le radiofrequenze con altri purtroppo abbiamo avuto dei problemi perché non siamo riusciti a finire le registrazioni sì sì ti credo senza Emiliano io non meraviglio più di nulla proprio di nulla di nulla di nulla di nulla perché in un mondo tu sai che io scrivo anche qualche poesia mi piace scrivere poesie tra virgolette di protesta non di protesta poesie di realtà ma in questo mondo dove i valori praticamente stanno cioè man mano che andiamo avanti stanno scomparendo questa cosa questo controllo mentale è soltanto uno degli ultimi tasselli diciamo che possono inculcarsi che possono farci partire dico una cosa egoisticamente parlando meno male che non c'è ancora evidentemente la tecnologia per fare il controllo di massa con questa tecnologia perché evidentemente riescono ad attaccare dei singoli soggetti e non riescono ad attaccare una moltitudine di soggetti evidentemente per non so per frequenze per evidenti canalizzazioni che devono essere evidentemente molto forti e forse non hanno la tecnologia che è in grado di agire praticamente in multiplo perché altrimenti veramente ci ridurrebbero peggio di quello che siamo ci ridurrebbero veramente a delle larve perché se una persona manca il sonno se una persona fai pensare in una certa maniera perché lo costringe a pensare a quello che praticamente loro vogliono che tu pensi indipendentemente da come lo pensi ma ti inducono per forza di cose ti torturano praticamente il cervello e non riesci sicuramente a pensare ad altro perché perché è impossibile il problema è chi rileva la tecnologia agli effetti collaterali di questa tecnologia ma noi abbiamo capito che vengono irradiate anche altre persone che non hanno nessun tipo di sintomo non hanno nessun tipo di disturbo allora abbiamo capito che quelle persone potrebbero essere delle cavie umane inconsapevoli che diventano allo stesso tempo dei Manchurian Candidate radiopilotati facciamo un esempio se io creo il mal di testa a 20 milioni di persone nella nazione italiana queste 20 milioni di persone che cosa fanno? vanno a comprare un farmaco e le industrie farmaceutiche guadagnano miliardi se io creo il desiderio di andare a giocare il gratta e vince o andare a giocare al superenalotto o andare a fare a giocare alle macchinette chi incassa tutti questi soldi? le società che vengono create anche dalla massoneria occulta che crea una sorta di manipolazione delle masse e le costringe ad avere praticamente la patologia della dipendenza al gioco sì tanto che aggiungerei permettimi una cosa il fatto di diventare patologici soprattutto in quello che riguarda le tanto odiate almeno da me slot machine secondo me è proprio una sorta di dipendenza che può anche essere causata da un che di ipnotico che ti dà queste macchine perché io vedo della gente vedo anche ragazze giovani vedo anche signore di una certa età e quando giocano le donne guarda io non sono maschilista ma ti dico quando giocano le donne a me fanno paura mi capita tante volte di andare in bar a prendere le sigarette è vedere con che con che foga giocano cioè sono ipnotizzati sono ipnotizzate sono passami il termine rincoglioniti dal gioco e questo naturalmente non può far bene soprattutto a livello sociale perché intanto crei una patologia che oltre a rovinare famiglie e oltre ad arricchire indebitamente chi si arricchisce va a finire che altro che sanità a pagamento sanità non a pagamento va a finire che questi costi ti ricadono sul sociale perché guarda vicino a Verona c'è un c'è proprio un centro che ho visitato per lavoro tempo fa dove appunto curano queste patologie del gioco ho parlato con un paio di persone che non si potrebbe neanche fare ma mi dicevano che veramente si trovano come cioè se vedono la macchinetta non resistono cioè sono come drogati praticamente sono peggio dei drogati perché la droga al limite con quanto schifo mi faccia però la droga se non hai soldi lo spacciatore non te la dà no lì cioè quindi vanno a rubare fanno di tutto ma cioè arrivano a prostituirsi certe persone per queste cose quindi il fatto di indurre a qualcosa è pericolosissimo è la mina della società sono le mine vaganti della società perché quelle poi a lungo andare rovinano anche la gente sana perché a un certo punto non sanno più cosa fare se hai un familiare che ha questo tipo di problema o un familiare che si droga cosa fai? sei disposto ovviamente a mettere in tavolo tutto quello che tu hai e anche quello che non hai purtroppo a beneficio di chi? a beneficio di banche strozzini e cose varie sì un tema molto scottante secondo me cioè proprio è un volerci un volerci rovinare per forza nel nuovo ordine mondiale si sa che vogliono rovinarsi che vogliono farci avere una sola moneta che vogliono che si che si obbedisca a fin fine ad un solo governo ad un solo comando e che ci siano cioè che i fini praticamente siano quelli di chi comanda e basta e questa la dice lunga cioè questa è la longa manus del nuovo ordine mondiale la longa manus degli apparati che sono sicuramente deviati che non sono apparati ufficiali ma che sono che sono controllati da entità non sto parlando di spiriti ma da entità ben definite che hanno l'interesse appunto di di far unificare e di di rendere plasmabile questo mondo ecco non abbiamo definite entità estra governative esatto e vabbè guarda io non ho dato questo termine comunque il pensiero il pensiero è comune poi insomma quello che ti ho detto prima dei camerieri perché io guarda ti dico la verità non metto in dubbio la buona fede di di chi governa o tenta di governare ma sai quando ad un ad un chedi ufficiale contrapponi un qualcosa che non è oltre a non essere ufficiale non è controllabile a un qualcosa che non è tangibile è come se fossero degli ectoplasmi perché riesci ad intuire riesci magari ad arrivare fino fino vicino a dove può essere la fonte del problema ma non riesci a toccarli perché chi ha tentato di toccarli sappiamo benissimo che fine fa non so come vuoi chiamarli purtroppo noi li abbiamo chiamati in molti modi perché tutte le persone che abbiamo ricevuto nelle varie riunioni nelle varie interviste che abbiamo fatto tutti li hanno definiti come dei carnefici come il terzo orai come dei nazisti che fanno esperimenti sui campi di concentramento che adesso sono diventati praticamente campi di concentramento tecnologici e da quello che abbiamo capito l'attestazione e il collaudo di una tecnologia che permette di manipolare la mente di un individuo fa sì di avere un potere di modificare tutti i ragionamenti delle persone e farli andare tutti in una strada che magari quella strada potrebbe essere pure sbagliata ma quella strada fa guadagnare miliardi a chi opera con questa tecnologia